Venerdì 6 novembre ha preso il via il nuovo anno accademico dell'Unilit sezione di Fano con una serie di conferenze che comprendono varie discipline tra cui arte, letteratura, cultura generale e scienza. Ed è proprio dalla scienza che si incomincia con un relatore di grande spessore accademico e di fama internazionale, il professor Emiliano Giardina, docente di genetica medica e perito dell'accusa nei più importanti processi per omicidio degli ultimi anni come il delitto di via Poma, il caso di Emanuela Orlandi, Meredith e quello ancora in corso di Yara Gambiragio. Tema della relazione il ruolo dell'investigazione scientifica nell'identificazione dei criminali. Lo abbiamo incontrato nei laboratori della facoltà di biotecnologie di Palazzo San Michele a Fano. La evoluzione tecnologica che vi è stata nella genetica non è paragonabile a quella che c'è stata ad esempio dell'informatica. Quindi ogni giorno noi disponiamo di test nuove, di metodologie nuove. Questo determina il fatto che ogni caso nuovo applicato con le più moderne tecnologie rappresenta un unicum. È pur vero che dobbiamo ricordare che la generica forense per poter essere utilizzata e utilizzabile nell'ambito di un processo deve utilizzare tecnologie standardizzate e validate per l'uso forense. Gli esperimenti li facciamo qui all'università. Dopo che abbiamo validato queste tecniche le possiamo portare e condivise con la comunità scientifica le possiamo portare poi in tribunale.